Sono oltre 2000 le persone che quest'anno sono state richiamate a Pesaro dalla Benelli Week 2024. Non solo capitale della cultura dunque, ma anche capitale della moto e dei motori. Lo confermono a 14esima edizione all'insegna del motociclismo e della celebre marchio Benelli, omaggiato non soltanto da una settimana in tour per le marche, ma anche da feste, eventi e musica. Una dedica speciale poi con il memorial dedicato ad Augusto Baronciani, noto imprenditore pesarese, ma prima di tutto pilota e presidente storico del motoclub. Questa settimana è cominciata bene perché siamo riusciti a fare un bel giro lunedì e poi pian piano siamo stati ostacolati dal maltempo, ciò nonostante siamo riusciti ugualmente a portare con altre vie le persone a visitare le marche, siamo andati nell'entroterra a Cacciano, siamo arrivati a Camerano, Ancona e in qualche modo siamo riusciti a portare a spasso questi turisti stranieri che sono arrivati in quantità abbondante nonostante il maltempo e che ci hanno accompagnato nel cercare di vedere sempre cose nuove in giro per la regione. La Benelli Week attira gli appassionati nel mondo, tant'è vero che sono arrivati anche dall'Argentina dei signori che sono rappresentanti della più grossa concessionaria dell'Argentina e in Sud America la Benelli era tantissimo prezzata, lo è tuttora, e sono arrivati anche dagli Stati Uniti. Quindi sì, possiamo dire questo, che la settimana Benelli dimostra il fatto che la Benelli non solo esiste da tantissimo tempo ma addirittura è tuttora viva e prima nelle vendite in Italia. Certamente è una settimana fantastica, non poteva essere che altrimenti, siamo alla 14esima edizione che come sempre è stata una settimana partecipata, soprattutto dall'amore che i stranieri hanno verso il marchio Benelli ma io dico anche verso la nostra città, verso Pesaro. Persone, motociclisti che sono venuti da tutto il mondo, non solo dalla Scandinavia ma dall'Inghilterra, dalla Germania ma anche addirittura dall'America, dall'Argentina e anche dall'Arizona, beh è stata veramente una settimana fantastica. Sì, il tempo non ci ha aiutato, non ci ha aiutato sicuramente, abbiamo avuto tre giorni di piogge però siamo riusciti ugualmente a trovare delle alternative alle giri in motocicletta portando appunto i motociclisti con dei pulmini nelle varie località dove avevamo previsto di andare in motocicletta. La cosa più bella è quella di scambiarsi le proprie emozioni con gente che hanno tradizioni diverse che però trovano nel nostro territorio e soprattutto qui al Museo Benelli un amore infinito verso un marchio che ha reso la nostra città unica nel mondo.